Sempre 1950, vado in farmacia sempre a Roveretto e mi trovo di fronte, nell'altra trasmissione vi ho detto, forse il problema dell'intestino, ma c'era un grande problema allora, che l'ho già detto in un'altra trasmissione, non c'erano gli antibiotici, non c'erano i vaccini e allora in questo periodo mi capita di contattare alcune persone in farmacia, ah io non vaccino a mio momento, lo vaccino dopo diventa autistico, quell'altro no io non lo vaccino perché può succedere di qua e allora mi piacerebbe prendere questo mondo di persone che non vogliono vaccinare i loro figli e portarli nel 1950 quando i vaccini non c'erano. Bene, io mi ricordo benissimo morti per difterite, morti per meningite dovute a cause conseguenziali al morbillo, mi ricordo benissimo la poliomelite, le paralisi poliomelite che qui ad Arco ce n'è anche qualcuno che gira ancora di quelli che non li avevano vaccinati, ma che i vaccini non c'erano e giù di questo passo, allora mi piacerebbe veramente che queste persone potessero venire allora e vedere che differenza c'è tra oggi e allora, vi do un dato, 1950 età media degli uomini 45 anni, oggi età media 85 anni, dico sta differenza da cos'è, me l'avevo già detto, dagli antibiotici, ma i vaccini hanno avuto una cosa determinante e allora come fanno certe madri a non vaccinare i loro, ma scorrono dei rischi enormi, ma potrebbe essere, ma tutto ragazzi può essere, perché anche certi antibiotici possono dare uno shock anafilatico e restarli secchi, anche chi va a farsi operare può darsi che l'anestesia abbia un effetto letale, perché ancora non è detto che chi va a farsi l'anestesia non ci lasci le penne, ci sono delle probabilità, ma sono probabilità che vanno messe sulla bilancia e quindi è molto meglio vaccinare di non vaccinare, i rischi, guardate, le 65 anni non ho mai visto un caso da vaccino, boh, non è successo, mi lo so, adesso tutti, ieri c'era un bellissimo articolo di Paolo Miedi, ex direttore sul Corriere della Sera e varrebbe la pena che questo articolo fosse molto più pubblicizzato di quello che è, dove mette in risalto che per esempio il dato che è stato dato sull'autismo è un dato falso, non è vero, allora non possiamo spaventare la gente e dire boh, vaccinate, perché è di moda, secondo il mio parere non è corretto, perché ripeto ci sarebbe un unico sistema, prendere questi signori e portarli nel 1950, quando il sottoscritto vedeva nella chiasetta di fronte alla farmacia, non dico giornalmente, ma giorno se giorno è una piccola barra bianca dove c'era un bambino che era morto per una di queste malattie.